Domenica 23 e lunedì 24 giugno si svolgerà il ballottaggio per eleggere il sindaco della città di Cortona. I candidati che si sfideranno sono Luciano Meoni, sindaco uscente, sostenuto dalle liste civiche Futuro per Cortona e Movimento Autonomo Popolare, e Andrea Vignini, anche lui ex sindaco della città per due mandati, sostenuto dai partiti di centrosinistra PD, 5 Stelle e della lista Cortona Civica. Nella prima tornata elettorale Meoni ha ricevuto il 45% dei consensi, Andrea Vignini si è fermato al 35%. Si voterà domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. Lo scrutinio inizierà lunedì alle 15, subito dopo la chiusura dei seggi. Al seggio ci si dovrà recare con la tessera elettorale con un documento di identità valido. Per la distribuzione delle tessere elettorali e per la sostituzione di quelle esaurite sono state previste delle aperture straordinarie degli uffici competenti. Le persone chiamate alle urne a Cortona sono 17.605, 8.526 maschi e 9.079 femmine. Nel territorio comunale sono presenti 30 sezioni elettorali, la più grande è la numero 9 di Camucia, 1.057 elettori, la più piccola è la numero 29 di Teverina, 111 elettori, a cui va aggiunto il seggio volante per le persone ricoverate nelle strutture sanitarie. Gli elettori, qualora si trovino in condizioni di disabilità o di difficoltà di deambulazione, possono richiedere il servizio di trasporto contattando l'ufficio elettorale o la misericordia di riferimento per l'area territoriale. Sono circa 200 le persone fra addetti dell'amministrazione comunale e componenti dei seggi, oltre alle forze dell'ordine, che garantiranno il regolare esercizio del voto ai seggi.